Una brutta L'Aquila cade malamente al Delconero di Ancona e conosce la sua seconda sconfitta consecutiva, la prima lontana dal Fattori. Una netta inversione di tendenza per gli uomini di Carlo Perrone che dopo il positivo impatto nei primi due match sono inciampati altrettante volte. L'impegno non è mancato ed è stato lo stesso tecnico aquilano a confermarlo nel dopo partita eppure la prestazione è stata abulica. In sostanza mai L'Aquila è riuscita a impegnare seriamente o spaventare l'estremo di casa Lori. L'Ancona ha spinto e fatto di più e per questo che i tre punti sono meritati. Si rivede nella linea difensiva il terzino sinistro Piva. La novità è il debutto da titolare per Stivaletta che in mediana prende il posto di Benzaia il quale non al massimo parte dalla panchina. San Domenico, Ceccarelli e De Sousa compongono il trio d'attacco. Nell'Ancona Cognigni è l'unica punta del 4-2-3-1 voluto da Cornacchini. L'Aquila si lamenta al terzo per un tocco galeotto di mano di Mallus in area ma Strippoli di Bari fa giocare. Ritmi piuttosto blandi in apertura ma Zandrini è il portiere più impegnato da una insidiosa punizione di Casiraghi poi da un destro dai 20 metri dello stesso Casiraghi. Al diciassettesimo quando Conatè in corner cross di Lombardi l'estremo Aquilano alza in corner. Infine al ventisesimo quando la punizione di Pedrelli buca la barriera e Zandrini è costretto a salvarsi in maniera avventurosa. Il destro docile di San Domenico è una delle poche tracce aquilane di un brutto primo tempo su Amboifronti. Nella ripresa dopo pochi minuti Cornacchini getta nella mischia l'ex terramano Sassano al posto di Cazzola e al decimo l'Ancona sigle gol partita. Sponda di Sassano per Casiraghi che va giù sul contatto con Maccarrone. Palla a Cristiano Lombardi che indovina la traiettoria giusta con un magistrale esterno destro che non dà scampo a Zandrini. Primo gol per il giocatore Scuola Lazio. Lecito aspettarsi la reazione aquilana che però non c'è. L'Aquila non si disunisce ma neanche accelera e l'Ori è quasi inoperoso fino al termine. Neanche gli innesti di Benzaia, Triarico e Perna per Stivaletta, De Francesco e Ceccarelli portano giovamenti. Anzi è l'Ancona a sfiorare a ripetizione il raddoppio con la premiata ditta Sassano Cognini che fa e disfa anche con la complicità del sempre reattivo Zandrini. Un K.O. che l'Aquila deve subito metabolizzare perché il calendario impone la trasferta, la seconda consecutiva più difficile di tutte, quella sul campo della lanciatissima Spal, capolista del girone a punteggio pieno. C'è da cambiare registro. Grazie. 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 Grazie.